Torna la decima edizione con grande entusiasmo dopo diversi anni di stop di una delle rievocazioni storiche più belle del nostro paese, l'assedio al castello di Gradara. L'assedio al castello di Gradara ci fa rivivere a tutti gli effetti e direi con grande accuratezza l'assedio appunto a Gradara e al suo castello del 1446 dai potenti eserciti degli Sforza e dei Montefeltro. Tantissimi figuranti questa sera all'interno del borgo che ci riportano in quel momento storico. Decima edizione 5 anni di stop forzati a causa pandemia, il sedio è viennale come evento quindi abbiamo beccato il 2020 come edizione di stop e anche gli anni dopo perché era difficile organizzare eventi con restrizioni che sappiamo. Comunque è passata, invece l'inizione, il sabato, la serata di apertura, quella più importante e in grande, è andata molto bene, tantissime persone al campo hanno assistito a questo spettacolare evento storico perché resta comunque un evento storico col cine spettacolo iniziale e a chiusura del grande spettacolo piromusicale. Pensiamo di aver dato anche quest'anno la giusta visibilità a un borgo, a un castello che merita, ma anche avere contribuito ad approfondire ulteriormente il radicamento di questo evento nella comunità, non solo gradarese ma anche locale e avere contribuito anche a diffondere un po' di storia e un po' di cultura. Nel 1446 Gradare diventa teatro di uno degli assedi più sanguinosi della storia secolare del castello perché qui siamo al confine tra Marche e Romagna, all'epoca quindi al confine tra due delle più importanti signorie del periodo rinascimentale italiano, ovvero in Malatesta e in Montefeltro. Il castello di Gradare è legato storicamente appunto alla tradizione malatestiana e nel 1446, nel mese di ottobre-novembre, Francesco Sforza, alleato di Federico da Montefeltro e appunto Federico Montefeltro, ancora Conte e non Duca, decidono di cercare di conquistare Gradara e assedieranno il castello per 43 giorni e 43 notti non riuscendo a fare breccia nelle mura e a vincere la tenazza e la resistenza dei gradaresi che alla fine riuscirono appunto a salvare il castello perché ricordiamo e le sottolineiamo che Gradara non è mai stata conquistata con le armi. È stata seduta di contrattati ma non è mai stata conquistata con le armi e questa è la riprova appunto della ben riuscita della difesa dei gradaresi in quel lontano 1446. L'evento ricordiamolo che erano più di 250 rievocatori quest'anno e con più di 20 pezzi di artiglieria, con più di 10 cavalli ed è stato appunto come rientrare in un campo di battaglia medievale perché il punto di forza della sedia è uno e filologicamente è accurato, non dico il 100% perché la perfezione non esiste, ma un buon 90% c'è perché tutti i nostri rievocatori hanno abiti studiati e ripescati da manoscritti originali del periodo.